ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi abbiamo tre pacchettini arrivati da aliexpress bambini salutate ciao oggi sono in compagnia di tutti e tre marika vincenzo e antonio allora ognuno aprirà un pacchettino che dite d'accordo marika già è andata all'attacco dai prendi marika premetto che questo pacco già è aperto perché mio marito appena arrivato subito la tentazione quella di strappare tutto però glielo sono riuscita a strappare di mano a marika togli la busta tira apri dai vedi cosa c'è dentro ecco qua cosa c'è questo abbiamo acquistato un bastone per i selfie che è il mezzo con cui in realtà io faccio i video i miei video per il canale youtube dato che il bastone si ruppe o meglio antonio veramente me lo ruppe e non era manco mio ho approfittato a comprarne un altro da aliexpress allora questo l'ho pagato 3 euro e 84 diciamo che sembra abbastanza buono perché ops e questo a questo da agganciare qua vabbè mi sembra più il bastone di sailor moon però allora qui si regola diciamo è bello perché c'è questa bella lunghezza di solito questi fili vanno sempre proprio corti corti questo si regolabile questo fermi bambini mamma scusa mamma ma marika si ho visto vabbè sei ferma e vuole prendere pure l'altro allora dicevamo questo è il tasto per scattare fermi scusate il dista il la confusione oggi quindi questo bel bastone che diamo a marika così si sta ferma tieni marika costa 3 euro e 84 naturalmente vi metterò i link tieni marika tenete anche l'accettino vi metterò il link di tutto ciò che ho acquistato giù nell'info box e vi ricordo che di venirci a trovare sul sulla pagina facebook riccioli ribelli family e se vi piace spacchettare venite veniteci a trovare sul sul gruppo facebook passione aliexpress spacchettamenti pazzi bravo vincenzo vinci apri tu questo vedi che cos'è vieni più sotto la telecamera vediamo o le allora questi sono tre braccialetti dove si apre tre braccialetti vediamo dovevano essere tre adesso non lo so sono quattro vabbè uno vabbè vedo bene sì dovevano essere ah ce n'ha dato uno in più che carino allora questi tre dovevano essere questo questi sono regolabili si 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 tirano e si regolano che ci hai comprato altri anche altri marcelli allora uno due anche questo regolabile ammazza come sono tosti però vabbè uno due e tre tutte e tre regolabili e il quarto e ce l'ho regalato questo e lo devono dare e si che carino che carino ahi abbiamo avuto anche un regalo dal venditore molto bene allora questi diciamo tre ma in realtà quattro braccialetti ne abbiamo pagati 3 euro e 88 bambini fate un po di silenzio dai allora ed è questo tu sei l'ormone eh sei l'ormone tanto apri vediamo cosa c'è qui dentro apri più qua fai vedere dai appunto perché sono scusate oggi che video strampalato cosa c'è vediamo un po' allora dato che il mio cellulare ormai devo cambiare un vetrino al mese ho comprato un altro vetrino io ho un honor 9 light turchese quindi questa volta l'ho ordinato colorato poi magari se riesco vi metto una foto del vetrino una volta applicato quindi c'è il vetrino e c'è questa bustina dove sicuramente c'è dentro il panno per pulire il cellulare e per poi applicare il vetrino io in realtà ho fatto già un video su come si applicano questi vetrini magari vi metto qui da qualche parte il link e niente questi sono i miei ultimi acquisti avevo promesso di fare un po' di astinenza ma non ne sono stata capace e niente vi salutiamo salutate bimbi ciao a tutti ciao a tutti mi raccomando lasciateci un 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 pollice su bravo un pollice su e iscrivetevi al canale youtube bravissimi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti